Salve a tutte e tutti, qui il vostro Santenchan, sono potuto solo questa sera entrare in Google Plus e quindi mando i miei migliori saluti e ringraziamenti per i complimenti alla mia amica Laura Pezzino che ha iniziato a seguirmi nel mio canale radio Santenchan di Sprecher. La ringrazio per tutti i complimenti e per seguirmi, che fino adesso eravamo contatti in YouTube e in Google Plus. Io ho il canale di YouTube Santenchan e come voi tutti sapete anche Google Plus Santenchan. Quindi, cara Laura, grazie dei tuoi complimenti. Spero di poter sempre stare all'altezza delle tue aspettative e di poter sempre compartire con voi del nuovo materiale interessante. Quindi non lasciate di seguirmi in YouTube, poi devo ringraziarvi per aver superato le 12.000 visioni. Farò un video su questo, probabilmente. E niente, adesso questa breve nota per ringraziare la nostra amica Laura Pezzino che ha anche un canale YouTube e quindi non mancate di iscrivervi al suo canale e di contattarvi con lei in Google Plus perché i suoi interventi sono molto creativi ed interessanti. Beh, adesso qua è tardi, io andrò a dormire. Sono le 10 e 10. Domani mi dedicherò con più tempo ed attenzione a Spreaker perché è un po' di tempo che stavo soltanto in Google Plus caricando un sacco di materiale, ma trascuravo YouTube, StenCian, Spreaker, StenCian, Vimeo, StenCian, Dailymotion, StenCian, Facebook, StenCian ed anche il Twitter, StenCian. Sono molte cose. In più avevo aperto una nuova pagina, canale di YouTube, StenCian, l'avevo chiamato Radio StenCian, ma poi mi sono reso conto che sarebbe il canale della mia pagina di Google Plus StenCian, quindi è un casino. Adesso la mia pagina di Google Plus che non ho mai gestito avrebbe un canale di YouTube. Beh, devo vedere come funziona la cosa perché mi sta un po' imbrogliando. Un saluto a tutti voi con affetto e ti ringrazio ancora una volta, amica Laura, dei tuoi complimenti. Grazie, spero di seguire a potervi meritare. Cerco di migliorarmi. Arrivederci e buonanotte.